Allora oggi siamo a Lazzaro, alzati e fattura, perché siamo nel 2018, quindi Lazzaro si deve alzare e deve andare a fare fatture. Credo che quest'anno sia un po' l'anno della svolta, no? Questo 2018. Con il discorso della Mifid 2 ci sarà un grande repulisti, quindi ci saranno, come ve l'ho detto, cioè è dall'inizio del 2017 che faccio una capatante, vi dico datevi da fare, datevi da fare, datevi da fare, perché se non cominciate, e lo dicevo a gennaio del 2017, a fare oggi vi ritroverete in capo a due o tre anni che siete nei guai, ok? Quindi, ma adesso siamo nel 2018, quindi Lazzaro, se ti sei già alzato e fatturato, vuol dire che stai andando benino. Se invece Lazzaro è rimasto lì sdraiato e non ha colto neanche uno dei segnali che io ho dato tramite le chicche formative, tramite i corsi, tramite i post, cioè credo di avervi inseguito, cioè vi ho circondato, ho cercato di farvelo sapere in tutti i modi possibili, vi ho fatto un ebook, la Corsa del Topo, per poter capire che cosa vi serviva, non l'hai ancora scaricato? 331-23-38616, il numero di cellulare a cui devi mandare un sms con scritto voglio uscire, ok? E riceverai gratuitamente la copia del ebook gratuito, la Corsa del Topo, ok? Quindi l'ho ben super iscritto, l'ho fatto nelle chicche formative, l'ho scritto, ho fatto i post ovunque, LinkedIn, Facebook, insomma, non mi hai ascoltato Lazzaro? Io che devo fare ragazzi, io più di così, tra l'altro non sono neanche Gesù Cristo, per cui non posso neanche farvi più di così, più che dirti Lazzaro alzati e fattura, io non posso fare, ho fatto tutto il possibile per te Lazzaro che non ti sei ancora alzato. Gli altri stanno già camminando, perché poi quando sei Lazzaro, alzati e fattura, però ci vuole del tempo, perché anche Lazzaro era morto, quindi non è che sei alzato e iniziato a fare le corse campestre, hai iniziato a camminare prima su due, un po' lentamente, poi è partito, ok? Quindi ci vuole allenamento, ok Lazzaro? Quindi, Lazzaro, alzati e fattura, questo è il leitmotiv del 2018. 30 di gennaio 2018 c'è il corso Infinity Referral a Milano, non ti perdere anche questo, Lazzaro, ok? Ciao!